Ciao, lo sai che mi costruisco una casa Minergy? Minergy, ma poi non potrai aprire le finestre, no? Ma va, nelle case Minergy puoi ventilare come vuoi, ma però non sei costretto. Anche se hai le finestre chiusi, avrai sempre aria fresca in casa. Minergy è il marchio svizzero per un edificio di qualità ed energeticamente efficiente. Le case Minergy funzionano come un sistema globale. Esse producono da sole parte dell'energia, riscaldano senza combustibili fossili, hanno un isolamento termico eccezionale, un ottimo clima interno e consumano poco. Questo fa bene all'ambiente e al tuo salvadanaio. Però non è complicato costruire in questo modo. Per niente, è semplicissimo. Minergy offre tre standard costruttivi. Minergy per le case a basso consumo energetico, Minergy P per un comfort ancora superiore e Minergy A per un bilancio energetico in positivo. In più, ci sono anche standard ecologici e garanzie di qualità. Naturalmente puoi anche costruire in modo peggiore, ma perché dovresti?